A proposito di provocazioni, tutti noi ricordiamo la notizia diffusa con grande enfasi dagli Stati Uniti, secondo la quale buona parte del personale della loro ambasciata che hanno a Cuba sarebbe diventato sordo. Tutto il mondo a domandarsi come fosse stato possibile un inconveniente del genere, forse forse la lunga mano tecnologica della Russia o una trovata della stessa Cuba. Qualcuno giunse a domandarsi se c'erano stati effetti collaterali tipo impotenza, demenza, nulla di tutto ciò. Gli Stati Uniti attraverso questa provocazione avevano ottenuto di attenuare, far quasi fallire, quelle che erano state le faticose trattative di conciliazione, di convivenza fra gli Stati Uniti e Cuba. La cosa quindi venne messa a tacere, però all'interno degli USA qualcuno pensò, le provocazioni vanno quasi sempre a buon fine, perché non utilizzarle più intensamente. La prossima, infatti, recentemente è stata affidata al rappresentante degli Stati Uniti presso l'ONU, Nicky Halley, la quale si è presentata con delle fotografie che mostravano un grosso cilindro. Ricordava un po' gli scaldabagni dei grandi alberghi, annerito, bruciacchiato e forato, affermando con sicurezza che l'Iran aveva fornito un missile, e questo era il reperto, che il gruppo iemenita Uta, detto anche dei partigiani di Dio, aveva lanciato in direzione di un loro prezioso alleato, l'Arabia Saudita. La signora Halley anche in quest'occasione non ha prodotto nessuna prova. E allora, dovendo dare supporto con una nuova provocazione all'estensione delle sanzioni nei confronti della Repubblica Popolare di Corea, perché non utilizzare un qualcosa di più convincente, di più forte? Detto fatto, la signora solennemente ha affermato che il virus diffuso in internet One Cry era opera di Pyongyang. Ma perché tanta sicurezza nella signora Halley? Perché sente di avere le spalle ben coperte da un impero? E gli imperatori, quando parlano, devono essere creduti. Sulla parola! Sulla parola! Sulla parola!